Contagi stabili nel comune Corallino. Il comune di Torre del Greco nelle ultime 24 ore registra 21 nuovi casi di positività, numero esattamente uguale per quanto riguarda le nuove guarigioni. Rimane invariato dunque il bilancio dei contagi con 144 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Dal 9 al 30 settembre il comune di Torre del Greco ha organizzato presso il punto di vaccinazione territoriale Santissima Trinità e Largo Annunciazione l'iniziativa Open Day Night vaccinale che consentirà la somministrazione continua di vaccini anche senza l'iscrizione in piattaforma dalle ore 8 alle ore 23. A supporto dell'iniziativa e a fine di incentivare la partecipazione giovanile piena l'adesione della SS Turis Calcio che metterà a disposizione 20 biglietti per ogni singola competizione in occasione di quattro partite interne di campionato a Liguri. Ne beneficeranno attraverso estrazione al sorteggio i ragazzi della fascia d'età 12-17 anni che avranno aderito all'iniziativa. Anche il comune di Torre Annunziata lavora per accelerare la campagna vaccinale tramite un appuntamento fissato per venerdì 10 settembre dalle ore 19 alle ore 24 in villa comunale. Sarà necessario esibire esclusivamente un documento di identità e la tessera sanitaria.